Ciao e ti do il benvenuto nel mio nuovo video. Io sono Gian Piero Teresi, sono l'autore del libro Partita IVA Semplice e del libro Regime Forfettario 2020 e sono soprattutto l'autore del blog regime-forfettario.it che è un blog di natura fiscale incentrato sul mondo dei liberi professionisti, sul mondo del regime forfettario. Da qualche settimana sto realizzando una serie di video specifici su determinate professioni andando ad analizzare tutti quelli che sono gli adempimenti burocratici che ogni professionista deve andare ad effettuare per essere in regola con il fisco. Questo video è dedicato all'attività dei blogger, di tutti coloro che proseguono un blog o comunque monetizzano con l'attività da blogger e voglio andare a specificare cosa deve fare un blogger per poter lavorare in regola col fisco. Inizio subito dicendoti che non sempre sarai obbligato ad aprire una partita IVA. Infatti esiste uno strumento fiscale, si chiama prestazione occasionale, che lo Stato ha messo a disposizione per tutti coloro che possono utilizzarlo senza l'obbligo di aprire una partita IVA. La prestazione occasionale però ha dei limiti. Il primo limite è sicuramente un limite temporale. Non si può utilizzare la prestazione occasionale per attività lavorative che durino più di 30 giorni consecutivi durante l'anno. Inoltre esiste anche un limite di occasionalità. Potrai utilizzare la prestazione occasionale una tantum, cioè al massimo una volta l'anno con ogni singolo committente. Se invece deciderai di lavorare più volte l'anno con lo stesso committente, allora in quel caso non potrai utilizzare la prestazione occasionale e sarai obbligato all'apertura di una partita IVA. Un terzo limite è dato dall'impossibilità di pubblicizzarsi. Chi utilizza la prestazione occasionale non può pubblicizzare in alcun modo la propria attività. Non può quindi possedere dei volantini, dei bigliettini da visita, non può possedere un proprio sito internet, non può possedere una propria pagina Facebook che pubblicizzi la propria attività da blogger. Quindi però se dovessi rispettare tutti questi requisiti potrai tranquillamente utilizzare la prestazione occasionale. Dovrai quindi scaricare un modulo da internet, che è un modulo appunto di ricevuta di prestazione occasionale, o se vuoi posso fornirtelo io stesso. Questo modulo è come se fosse una fattura identica all'emissione di una fattura, non ha però il numero di partita IVA naturalmente, ma bensì dovrai inserire il tuo codice fiscale. All'interno della ricevuta di prestazione occasionale noterai che è presente la ritenuta d'acconto del 20%. In pratica il 20% dei tuoi compensi verrà trattenuto dal tuo committente, che dovrà quindi trattenere e versare questa quota entro il 16 del mese successivo allo Stato, come anticipo sulle tue imposte. Lo stesso committente l'anno successivo la prestazione tra febbraio e marzo ti consegnerà una certificazione unica, cioè un documento di due pagine attestante il versamento della ritenuta d'acconto. Prendi questa ricevuta di certificazione unica e portala al tuo commercialista o portala all'interno della tua dichiarazione di erediti, che sarà appunto il modello unico. Se però deciderai di lavorare più volte l'anno con lo stesso committente, se deciderai di lavorare per periodi lavorativi più lunghi di 30 giorni consecutivi o se vorrai sponsorizzare in qualsiasi modo la tua attività, allora devi aprire necessariamente una partita IVA per attività da blogger. In questo caso quello che ti consiglio è di iniziare sicuramente con una partita IVA nel regime forfettario. Questo perché questo regime ti darà una serie di vantaggi. Innanzitutto una tassazione più bassa, perché le tasse sono pari al 5% per i primi 5 anni, diventano poi 15% dal sesto anno in poi. Un altro vantaggio è che non avrai l'IVA, per cui quando emetterai una fattura, ad esempio da 100 euro, non sarà 100 più IVA, ma sarà 100 punte bassa proprio perché l'IVA non c'è. Non avrai neanche la ritenuta da conto, per cui incasserai il 100% dei tuoi compensi senza alcun tipo di trattenuta. Avrai un limite di fatturato da rispettare, che dal 1 gennaio dell'anno scorso, per cui del 2019, è stato innalzato a 65.000 euro annuali. Se un giorno dovessi superare questo limite, uscirai poi fuori dal regime forfettario dal 1 gennaio dell'anno successivo. Oltre al pagamento delle tue imposte, che abbiamo detto essere 5% per i primi 5 anni, 15% al sesto anno in poi, dovrai anche versare i tuoi contributi previdenziali INPS. Tutti coloro che sono dei liberi professionisti, come ad esempio i blogger, ma che non hanno un albo di appartenenza, devono versare i propri contributi alla cosiddetta gestione separata INPS. La gestione separata INPS prevede il pagamento di contributi soltanto in percentuale sul fatturato, quindi senza alcun costo fisso annuale. Immagina che se tu invece fossi stato un commerciante o un artigiano avresti dovuto pagare una quota fissa di contributi INPS pari a circa 3.600 euro annuali, anche se non fatturavi nulla. Qui abbiamo detto che non sarà così, quindi se fatturerai, pagherai una quota di tasse o una quota di contributi, se non dovessi fatturare nulla, non avrai nulla da pagare. Nello specifico la percentuale di contribuzione è pari al 25,72%. Quindi abbiamo chiarito le tasse, 5% o 15% al sesto anno in poi, contributi INPS pari al 25,72%. Attenzione però, perché sia le tasse che i contributi INPS andranno calcolati non su tutto il fatturato, ma soltanto su una percentuale di esso. Nello specifico nel caso di Blogger verrà calcolato soltanto sul 67% del fatturato. Quindi ad esempio ipotizziamo che tu dovessi fatturare 10.000 euro in un anno, di questi 10.000 euro il 33% non ti verrà tassato, per cui 3.300 euro non ti verranno tassati e non dovrai neanche calcolarci i contributi INPS su questi. Questo perché lo Stato ipotizza che questa quota tu l'abbia spesa per la tua attività. Sulla restante parte, per cui su 6.700 euro, questo rappresenterà il tuo vero e proprio utile. Per cui le tasse del 5% e i contributi del 25% andranno calcolati solo su questi 6.700 euro di utile. Questo è un po' il funzionamento del regime forfettario. Ora passiamo ad un altro argomento, per cui come aprire una partita IVA da Blogger. Inizio subito col dirti che tutti i liberi professionisti, per fortuna, possono aprire la propria partita IVA in modo totalmente gratuito. Ti basterà quindi compilare la modulistica, si chiama Modello A912, che potrai anche scaricare sul portale dell'Agenzia dell'Entrata, compilare in ogni suo riquadro e consegnarla per presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia dell'Entrata del territorio italiano. L'apertura della partita IVA verrà in modo automatico, immediato. All'interno di questo modello dovrai andare a inserire alcuni dati importanti. Innanzitutto i tuoi dati personali, anagrafici, i tuoi dati relativi alla residenza, ma anche alla sede dell'attività. Che attenzione, se non hai un ufficio tuo potrà essere anche la tua residenza o il tuo domicilio. I dati relativi alla scelta del tuo regime fiscale. Abbiamo parlato del regime forfettario, ma potrai scegliere anche il regime ordinario, il regime semplificato. I dati relativi al tuo codice ATECO. Il codice ATECO non è altro che un codice che contraddistingue ogni tipo di attività che esistono, che dovrà essere più attidente possibile al tipo di attività svolta. Nello specifico il codice ATECO per blogger che dovrai inserire all'interno del modello A912 è il codice 73.11.02. Ok, adesso passiamo all'ultima fase di questo video, cioè cosa posso fare per te. Allora, mi sono già presentato, io sono Giampiero Teresi e per primo in Italia ho sviluppato un servizio di contabilità completamente online, incentrato sul regime forfettario, che ha una tariffa che è di 39 euro al mese, già comprensibitiva, tramite la quale io mi occupo di tutto, mi occupo dell'apertura della partita IVA, della gestione della contabilità, dell'invio della dichiarazione da redditi, che è il passaggio più importante, nonché ti offrirò tutta la mia assistenza telefonica 365 giorni d'anno tramite il mio numero di telefono personale. Al contrario di molti commercialisti che si occupano di svariate materie molto differenti tra di loro, come contabilità nel regime forfettario o nel regime ordinario semplificato, o contabilità di società, o di associazioni, o di cooperative, oppure di diritto del lavoro, diritto tributario, Io ho deciso di specializzarmi solo e esclusivamente nel regime forfettario. Questo perché penso che un professionista non possa essere completamente preparato in materie così diverse tra di loro, quindi ho concentrato i miei studi e approfondimenti solo in questo regime fiscale. Ne conosco tutti i dettagli e ad oggi sono considerato uno dei maggiori esperti in Italia nel regime forfettario. Farò tutto quello che fa un commercialista classico, ma lo farò completamente online e non sarà mai necessaria la tua presenza fisica. Quindi come primo passo aprivo l'autopartita IVA, dopodiché ti insegnerò ad emettere le tue fatture, ti fornirò quindi dei prospetti in Excel che serviranno ad emettere tutte le fatture nel regime forfettario, le prime le compileremo insieme e ti farò vedere come fare, fino a quando non avrai raggiunta autonomia. Dopodiché ci sentiremo una volta al mese per un briefing mensile. Mi invierei così via mail quelle che sono le tue fatture messe, eventuali acquisti, e io porterò tutto in contabilità. E poi una volta l'anno, tra maggio e giugno, invierò la tua dichiarazione di erediti. Da lì verrà fuori quello che è il calcolo delle tasse e dei contributi previdenziali, e quindi ti invierò i modelli F24 già precompilati per poter pagare le tue tasse e i tuoi contributi. Questa è un po' la routine che svilupperemo ogni anno. Se dovessi avere qualsiasi altro dubbio sull'apertura della tua partita IVA, o se dovessi avere bisogno di ulteriori informazioni su come funziona il mio servizio di contabilità, ti invito a richiedermi una consulenza gratuita. Puoi andare sul mio sito, regime-forfettario.it, in basso troverai un form di contatto e riempilo con tutti i tuoi dati, per cui i tuoi dati personali, il tuo numero di telefono, esserò io stesso a richiamarti entro qualche ora e cercherò di chiarire tutti i tuoi dubbi. Ti ricordo inoltre che ho anche creato un gruppo Facebook si chiama regime-forfettario.it consigli utili. È un gruppo formato ormai da più di 9500 persone e cerco di rispondere un po' a tutti i quei siti. Per cui ti chiedo anche di iscriverti al mio gruppo. Ok? Allora adesso ti saluto e se dovessi avere bisogno di me richiedimi pure una consulenza. A presto!